La chiusura del traforo del Gran Sasso di venerdì scorso 10 marzo, iniziata alle ore 22 e terminata alle 6 di sabato 11, ha creato qualche disagio. I lavori di manutenzione degli impianti elettrici nel tratto in direzione dell'Aquila Teramo non sono stati comunicati in maniera sufficientemente chiara da ANAS. Un primo comunicato non rende nota la chiusura, un secondo invece dà indicazioni certe. Parliamo di due comunicati che si sono succeduti, uno il 7 e uno il 9 di marzo. Ciò ha generato confusione sia negli organi di stampa che non hanno riportato la notizia perché sostanzialmente era identica a quella di qualche giorno prima, fatto salvo per questa importante chiusura della notte di venerdì. E ha anche disorientato gli utenti, tanto è vero che ci sono giunte segnalazioni da parte di persone che dall'Aquila stavano cercando di tornare verso Teramo, ma che hanno trovato il traforo chiuso. Non ci sono stati grandi problemi per gli autotrasportatori che a quell'ora non transitano per l'A24. Viceversa ci sono stati problemi per pendolari e automobilisti che rientravano da Roma e che si sono trovati costretti a uscire dall'autostrada e percorrere il passo delle Capanelle, che è una strada di montagna che comporta anche delle difficoltà, oltre che dei rischi per un guidatore che non è abituato a questo genere di strade. C'è da dire però che questo piccolo disagio di comunicazione da parte dell'ANAS riporta l'attenzione su un'altra questione. La chiusura ricorderanno tutti quanti che è dovuta ai problemi che ci furono, credo se non sbaglio, nel 2017, per la perdita di sostanze che andarono a contaminare in maniera minima, ma comunque contaminarono la falda acquifera del Gran Sasso. La chiusura sollevò molte polemiche e fu adottata la soluzione del transito a una sola corsia per ciascuna carreggiata con il limite di velocità a 50 km orari. Sono passati circa cinque anni e la situazione ad oggi non trova ancora una soluzione. Sappiamo che il commissario Gisonni, che è il commissario che si occupa dell'imbrifero del Gran Sasso, aveva elaborato una sorta di progetto per la messa in sicurezza, ma purtroppo ad oggi non abbiamo ancora alcuna informazione in merito ai tempi di svolgimento dei lavori. Un problema che si somma ad un'ulteriore questione che sollecita un tavolo di confronto. Con l'ANAS, piuttosto che con le prefetture, con il Ministero dei Trasporti e con tutti quanti i soggetti che hanno responsabilità istituzionali nella gestione di questa vicenda.